Grazie Presidente. Purtroppo anche in quest'Aula, nella celebrazione della giornata internazionale per i diritti della donna, abbiamo sentito parole transfobiche. Quindi si tratta di un problema che è ovunque, anche qui, è un problema culturale, è un problema di leggi. Vale per Salonico, vale per la Grecia, per i fatti di violenza che ricordiamo, ma vale anche per il mio Paese, l'Italia, dove continuano a esserci suicidi di ragazze e ragazzi della comunità LGBTQIA+. Ci sono violenze, ci sono episodi di bullismo, ci sono discriminazioni a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di dare un segno chiaro, un cambiamento culturale, politico e di leggi. L'Europa deve impegnarsi affinché tutti gli Stati membri realizzino leggi chiare contro le discriminazioni e vengano sempre perseguiti adeguatamente i criminali che commettono attacchi omofobici e transfobici. Dobbiamo lavorare insieme, non può essere un tema che divide. Dobbiamo essere uniti perché ogni vita vale. Grazie.